Quindi ci siamo, partiamo subito con il primo concorrente, la prima concorrente. Viene da Roma, ha 13 anni e ama leggere molti libri e giocare a palla a volo. Ci farà ascoltare una canzone di Anna Oxa con il codice 01 e con noi Maria Carla Gonzales. Prego, veloce veloce, buonasera a te, ben arrivata e in bocca al lupo. Comunzionata? Un po', attenzione con il microfono. Con il codice 01 ci farà ascoltare Anna Oxa quando nasce un amore. Prego. Maria Carla Gonzales. Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella e guardo le stelle del cuore. Se ne sono umiliate quando nasce un amore, un amore è l'universo che si stella. Se ne sono umiliate quando nasce un amore, un amore è l'universo che si stella. Se ne sono umiliate quando nasce un amore, un amore è l'universo che si stella. Se ne sono umiliate quando nasce un amore, un amore è l'universo che si stella. Se ne sono umiliate quando nasce un amore è l'universo che si stella.